Dottore Monaco, è una grande emozione sentirli così carichi in vista del debutto di giorno 30? Questo è un progetto che il Centro di Urno porta avanti ormai da parecchi anni. Io devo ringraziare le due mie colleghe, la dottoressa Quegliata e la dottoressa Vella, per l'apporto che danno a questo Centro di Urno e per il fatto che mi sopportano perché io non sono facile nel portare avanti queste, sono un pochettino precisino e loro mi sopportano tantissimo. Il progetto va avanti da qualche anno, questo è il terzo anno che noi andiamo al teatro sociale e ringraziamo l'assessore alla solidarietà sociale, il dottore Davide Lalicata, che ci mette a disposizione sempre il teatro ed è disponibile in tutte le nostre manifestazioni, sono le nostre attività che noi svolgiamo. La dottoressa Vella e la dottoressa Quegliata sono delle due veramente colonne di questo Centro di Urno e assieme stiamo portando avanti questo progetto che dà possibilità ai nostri utenti, in collaborazione con i ragazzi di Villa Olga e con gli operatori di Villa Olga di dare la possibilità di esprimere i sentimenti, le passioni, le frustrazioni di questi ragazzi che frequentano sia il Centro di Urno che la comunità di Villa Olga. Un altro grazie particolare va veramente a tutte le persone sensibili che verranno giorno 30 a vederci perché venire al teatro e venire a vedere e recitare questi ragazzi è sintomo e sinonimo di sensibilità. Infatti invito tutte le persone sensibili, nostre amiche, persone che sono vicine al Centro di Urno, di venire giorno 30 al Teatro Sociale alle ore 17 ad assistere i civetoti in pretura. Siamo in compagnia di alcuni degli insoliti, allora tu che personaggio interpreti nei civetoti in pretura? Cioè io nei civetoti in pretura io parteciavo, mi sterrava. Ecco è stato difficile imparare questa parte, entrare nel personaggio? No no no, è stato facile. Da quanto tempo lavorate? Cioè in questa regia che noi abbiamo lavorato ora è da sei mesi e tutto sei mesi è andata bene. Tu invece che cosa farai? Io sono praticamente fatto il direttore di scena di questa scena teatrale di Civetoti in pretura e voglio ringraziare il dottore Mono che mi ha fatto operare qua dentro, il dottoressa Vella, il dottoressa Guagliata e farò la presentazione di questa commedia teatrale. E' un modo anche per stare insieme, per allenare la menta, non fermarsi a cercare stimoli nuovi, andare avanti con forza e con grande personalità. Figura femminile, lei cosa interpreterà? Io interpreto la parte principale, Cicca Stonchiti. E che personaggio è Cicca? E' una donna popolana, un po' rozza, che però è simpatica perché cerca di difendere i propri amici, la propria famiglia con unghie e forze e quindi fomenta moltissimo il suo personaggio. Vabbè poi lo vedete al teatro. E' la prima volta che ti cimenti un'attività teatrale? Voglio dire che è stata una bella esperienza perché l'abbiamo fatto con una decina di persone, poi il dottore Monno che è stato bravissimo a correggerci, a farci... Ci ha sbloccato un pochettino, ci ha fatto acquisire un po' più di sicurezza in noi. C'è un po' di emozione, si avvicina adesso la data del debutto. Sì, l'emozione c'è, però penso che andrà bene. Bocca al lupo allora. Grazie. Questa resa è delegata a un ricordo memoriale del nostro amico che non c'è più, di Enzo Leonti. Ciao Vincenzo, giorno 30, guardaci.